Chi vuole arrestare, generale? Vedete quanti siamo. Dovevamo essere un milione. La gente è sfaventata, terrorizzata. Non è venuta. Non è venuta. Noi abbiamo preso un verbale di arresto e l'ho consegnato al viceguestore lì, a piazza Montecitorio. Ma chi vuole arrestare, generale? A chi ha indirizzato il verbale di arresto? Lei è di quasi vive in Italia. Sì, no, per capire. Allora, il verbale di arresto è nei confronti di Sergio. Si giri, si giri di là, si giri di là. Nei confronti di Sergio Mattarella convalidati. Chiedo scusa, chiedo scusa che mi ha intervistato.